Buonasera, intanto devo dire che è veramente l'onore aver avuto la sua disponibilità. E vorrei anche diventare come meditore che avevo dato un incontro veramente di alto spessore, quindi ringrazio. La mia domanda è, secondo lei come si può fare una cultura finanziaria per far tornare gli italiani per la definizione delle banche? Cioè, perché gli vengono forniti i metri per avere un pensiero critico, quindi si fidino attraverso questo, a partire non necessariamente da un'opera utopica in cui lo si fa da giorno alla notte a livello nazionale, ma a partire dai quartieri per riuscire in qualche modo a muovere l'investimento privato, non perché ci deve essere una persona che si fida del banchiere perché la figura in generale è stata rivalutata, ma perché sa di avere i metri critici per riuscire a discernere un po' di più. Quindi, niente, aspetto la sua ispirazione. Grazie. 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 Grazie.